Questo tutorial segue il primo tutorial che ha fatto vedere come arrivare nella piattaforma concorsi e procedure selettive e intende far vedere come andare alla domanda e compilarla e si riferisce alla domanda per il concorso ordinario di insegnanti di religione cattolica per la scuola dell'infanzia e della primaria. Si va a vai la domanda si entra per scegliere la regione vedete le regioni tutte colorate di blu sono quelle che si possono scegliere mentre le quelle colorate di grigio non si possono esprimere perché non sono regioni utili per il concorso si può scegliere per esempio il Piemonte come la Lombardia piuttosto che la Toscana noi andiamo a scegliere in questo caso la Calabria. Una volta scelta la regione si deve scegliere la diocesi si scende più in basso e si va a scegliere la diocesi nel nostro caso scegliamo quella di Reggio Bova confermiamo le scelte fatte scendiamo ancora più giù e una volta scelta la diocesi e confermate le scelte possiamo fare la dichiarazione obbligatoria riferita alla certificazione di donità diocesana e dare la data di certificazione che deve rientrare entro i 90 giorni precedenti al bando per cui per esempio la facciamo cadere nell'anno 24 ottobre il 23 ottobre del 24 per esempio. e quindi poi scegliamo l'ordine di scuola per cui la certificazione è stata rilasciata può essere stata rilasciata per l'infanzia per la primaria o per entrambe le scuole. facciamo per esempio per la primaria dopo di che si sceglie il file e si inserisce ed è un file di riferimento per poter poi andare avanti con la nostra scelta. il file deve essere al massimo di 5 megabyte e nel nome non deve riportare caratteri speciali. quindi dopo essere passati nell'inserimento dei dati personali e aver compilato laddove dovesse mancare qualche riferimento di dato si procede ancora avanti e si va nell'anima della domanda nella compilazione delle sezioni. due sono obbligatorie che vedete queste con l'asterisco rosso le altre sono i titoli che dovete inserire tutti quei titoli valutabili ai fini del concorso e che voi troverete nel bando ma quella obbligatoria veramente è quella di il titolo di accesso si va su azioni disponibili cliccando su più si riferisce alla religione cattolica si aggiunge compare un modellino da compilare dove si seleziona il titolo di accesso che troverete con questi numeri e lettere che sono riferite al bando e potrete andare a trovare nel bando per esempio indicando questa voce questa ci la potranno cliccare coloro che nell'allegato 5 del bando troveranno il riferimento della laurea magistrale in scienza dell'educazione e quindi il titolo di accesso poi va specificato in laurea magistrale scienza dell'educazione dovrete dichiarare di aver conseguito la specializzazione di questa laurea in pedagogia e didattica della religione e così fate questa dichiarazione poi dovete indicare l'anno accademico di riferimento per esempio il 21 21 22 con la votazione inserita per esempio di 110 su 110 e quindi inserirete anche il la data di conseguimento per esempio quella del 16 giugno 2022 e infine il luogo università di roma e quindi potrete fare salva e il sistema acquisterà il riferimento qua c'eravamo dimenticati di inserire che l'insegnamento di conseguimento ci dice che l'anno di riferimento si è stato sbagliato vedete basta correggere e fare di nuovo salva per avere la l'accettazione del titolo di accesso era stato solo un errore di battitura dunque il sistema vi comunica pure gli errori di battitura poi andate a compilare le altre dichiarazioni e facendo perché è obbligatoria infatti il sistema vi ricorda che le sezioni da per il prima di inoltrare necessario tutte le sezioni obbligatorie dunque indicare la cittadinanza indicare i diritti civili indicare le liste elettorali è un obbligo indicare ancora di essere cittadino scritto nel comune di reggio calabria di indicare ancora l'idoneità fisica perché è un obbligo indicarla di non avere condanne penali è un obbligo anche questo da indicare di non avere procedimenti penali in atto è un obbligo da indicare di non essere mai stato destituito dal dal dispensato dall'impiego in una pubblica amministrazione gli ausili ai tempi aggiuntivi solo per coloro che hanno una certificazione di disabilità poi qua c'è il versamento che per cui va inserita questa voce è inserito il file del versamento che deve essere di un formato fino al massimo in 5 megabyte e non avere caratteri speciali poi la privacy e poi facendo il salva potrete inoltrare la domanda speriamo che questa spiegazione che questo tutorial per compilare la domanda sia stato utile ricordatevi che ci sono tutte le anche le altre sezioni da compilare nel caso in cui si hanno titoli di servizio altri titoli valutabili titoli di preferenza che vi ricordo sono tutti questi elencati molti hanno per esempio figli a carico oppure hanno prestato servizio nel nello stato perché nella pubblica amministrazione della scuola ecco ci sono una serie di oppure c'è un'invalità civile oppure di aver prestato lodevole servizio appunto per non meno di un anno nell'amministrazione scolastica che ha dato il concorso facendo poi salva e indicando poi l'inoltro la domanda è pronta ed è stata già quindi inoltrata nel momento che si fa il tasto verde inoltre grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti